Tragiche storie di ordinaria follia che scavano nei meandri di psiche malate, andati in tilte che solo nelle uccisioni trovano evidentemente la fine di profonde sofferenze. L'ennesima strage familiare compiuta ieri a Nuoro in Sardegna riporta alla mente altri tragici fatti di sangue che di certo non si possono chiamare emulazioni. Una di queste, quella compiuta proprio un anno giusto fa ad Alessandria, quando Martino Benzi, irreprensibile ingegnere 66enne, in un'insana mattina del 27 settembre, ha ucciso moglie, il figlio, 17enne e la suocera, prima di togliersi a sua volta la vita. Niente pistola, come nel caso del sardo Roberto Gleboni, ma una mattanza compiuta con un coltello in mano. Anche per questa strage, ascoltati i vicini e quanti conoscevano questa famiglia tragicamente annientata, lo sgomento e l'incrudulità erano palpabili. Gente per bene, educata, riservata, che ti salutava al mattina quando la incontravi e che mai aveva dato segni che un giorno qualcuno di loro sarebbe entrato nella stanza degli orrori per compiere una strage. Quel fatto di cronaca ribaltò le menti di tutti nella ricerca di un possibile movente, così da scacciare l'orribile pensiero che ognuno di noi un giorno potrebbe perdere la testa per diventare a sua volta un omicida. In quel caso il motivo venne identificato in presunti debiti che Martino Benzi aveva con il fisco. Debiti che, ammettendo che quella sia stata veramente la ragione, lo avrebbero martellato mentalmente sino a fargli scrivere un biglietto lasciato leggero sul tavolo di cucina prima di mettergli in atto il suo tragico piano dove si poteva leggere questa frase «Sono rovinato, è la colpa, è solo mia». Ma la cronaca degli ultimi tempi, purtroppo, continua a riempirsi di questi tragici fatti di sangue caratterizzati da gravi insofferenze che purtroppo nessuno vede prima che sia troppo tardi dove colpi e angosce diventano inspiegabilmente follie collettive. Le analisi di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri puntualmente tirati in ballo in questi frangenti pur nei loro eruditi approfondimenti non riescono comunque a trovare sensi logici che possono fermare il corso di una società che cammina su binari diametralmente opposti alle fragilità alle solitudini e alle sofferenze e che poco si cura di tutto questo lasciandoci tutti in balia di un'insana paura della mente umana.